ciao a tutti ragazzi oggi è arrivato il nostro nuovo giocattolino lo vediamo insieme e ce lo gustiamo classico pignone per invertire la manovella voglio spessori per variare l'assetto dell'imbobbinamento del filo bobina di ricambio questo è lui un bel respiro è arrivato l'MGS 2012 50 grammi in meno di quello dell'anno prima vediamo è stato messo come il vecchio aerotecchio mixtile l'immobbinamento l'escursione della bobina molto lenta uno spettacolo qui è stato messo a me diciamo un po' Grazie a tutti.